Il centro-sinistra della provincia di Brindisi si ricompatta in maniera ufficiale intorno alla figura del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli. 14 primi cittadini sui 18 che governano attualmente i comuni del Brindisino hanno sottoscritto un documento con cui si impegnano a sostenere la candidatura di Matarrelli a presidente dell'amministrazione provinciale nella prossima tornata elettorale in programma il 6 marzo. Ad aver sottoscritto il documento sono stati i sindaci di San Michele Salentino, Villa Castelli, Oria, Torchiarolo, Francavilla, Latiano, Sandonaci, Cellino San Marco, San Pancrazio, Erchie, Cisternino, Fasano e Brindisi. A ufficializzare l'annuncio sono stati i componenti del gruppo Provincia Democratica e Unitaria che proprio alle scorse elezioni provinciali è riuscito a piazzare in consiglio ben otto consiglieri su dodici. Ma il significato del documento è molto più profondo perché a sottoscriverlo sono stati anche Francesco Rogoli, segretario provinciale del PD e Domenico Tanzarella, segretario provinciale del Partito Socialista. Rogoli è anche consigliere comunale a Mesagne dove siede nei banchi dell'opposizione avendo sostenuto l'avversaria di Matarrelli nelle ultime elezioni. L'endorsement del PD all'attuale presidente reggente della provincia sembrerebbe dunque destinato a mutare anche gli equilibri nell'assise mesagnesi. Anche la firma di Tanzarella è un segnale preciso perché l'ex sindaco di Ostuni, nonché ex presidente reggente della provincia, era dato nei mesi scorsi tra quelli meno convinti di assegnare un ruolo centrale a Matarrelli, al punto che era stata attribuita alla sua regia il numero di voti fatti convergere nelle elezioni di consiglieri sul sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, risultato a sorpresa il più suffragato. A sostegno di Matarrelli ha firmato anche Domenico Turrisi, componente dell'esecutivo regionale di Europa Verde. Sull'altra sponda il centrodestra non ha ancora ufficializzato il proprio candidato. La lista dei papabili per questioni di scadenza di mandato è ristretta a Silvana Enrico, sindaca di San Vito, e ad Angelo Palmisano, primo cittadino di Ceglie. È chiaro che a questo punto, visto il sostegno totale del centrosinistra a Matarrelli, la partita per il suo sfidante, chiunque sia, sarà davvero molto dura, con un centrodestra che in consiglio peraltro è riuscito a esprimere solo quattro consiglieri. C'è attesa anche per conoscere le scelte del Movimento 5 Stelle che, non avendo alcun sindaco in provincia di Brindisi, dovrà decidere se sostenere uno dei due schieramenti o astenersi.